Dovrà scontare una condanna definitiva alla pena di un anno e due mesi di reclusione per lesioni aggravate, detenzione e porto di armi il 24enne Nicola Lorusso, figlio del boss barese Umberto. Il 24enne, sfuggito alla cattura a gennaio, è stato rintracciato dagli uomini della squadra mobile di Bari in un casolare sul lungomare a sud del capoluogo pugliese, intercettato durante una videochiamata con il padre detenuto. I fatti per i quali è stato condannato e ora è finito in carcere risalgono al 18 ottobre 2015. Lorusso ferì con colpi di pistola durante i festeggiamenti in onore dei Santissimi Medici a Bitonto, nel Barese, nei pressi dell'una parca follato di gente, un pregiudicato del posto. Nella circostanza anche un passante fu ferito lievemente da una pallotto lavagante e l'agguato provocò panico tra folla, messa in fuga dalla sparatoria. Per questa vicenda il 24enne, all'epoca appena maggiorenne, era già stato arrestato nel dicembre del 2017 ed in attesa di sentenza definitiva era poi tornato in libertà. Per la sparatoria dell'ottobre 2015, maturata nell'ambito di scontri tra clan rivali a Bitonto per il controllo dello spaccio di droga in città, altre tre persone sono state già condannate e arrestate nei mesi scorsi.